Ecco la novità, però dà il segno di una volontà. Un poco tempo fa abbiamo inaugurato i cosiddetti baby pit stop nel plesso ospedaliero della Gruccia che sono degli spazi, quelli appunto, dedicati a chi deve allattare o deve cambiare il pannolino al proprio bimbo o alla propria bimba e lì abbiamo preso un impegno di farlo anche negli enti pubblici e qui a Terra Nova abbiamo messo un fasciatoio apposta perché chi usufruisce dei servizi comunali mamma, papà che sia, ha la possibilità di avere un ambiente comunque in cui cambiare e fare tutto quello che è necessario al proprio figlio. Ci sembrava giusto, è di fatto una piccola spesa però è anche allo stesso tempo un cambiamento culturale positivo. Da questo punto di vista invitiamo tra l'altro anche le attività private, in particolar modo i ristoranti, le attività recettive in generale a predisporre delle zone ad hoc perché oggettivamente per fortuna ci sono tanti bambini e tante bambine che necessitano di questa tipologia di servizio e quindi rappresenta di fatto un piccolo passo avanti ma sono convinto, ben accetto, dato a parte di tutti i genitori. Vai!